Professore, anzitutto, congratulazioni, inizia una nuova avventura. Sì, sì, grazie. Torno a vecchi amori, quindi cose conosciute, però in un campo nel quale gli strumenti, i metri e le tecniche sono completamente diversi, ma sono quelli che oggi la società richiede, la società informatica, la società telematica. Le università telematiche sono sicuramente il futuro, una parte importante del futuro delle università italiane. Ora dovremo cercare, io ho anche questo compito in questa fase, di fare in modo che il rapporto con le altre università sia un rapporto di scambio reciproco, di attenzione, di collaborazione e che si possa, in questo senso, migliorare la qualità dell'offerta. Quali sono le peculiarità di un'università telematica in generale e di Pegaso in particolare? Pegaso in università telematica significa che si fa formazione a distanza. Gli studenti, rimanendo nelle loro abitazioni, nelle loro uffici, a seconda, ricevono una serie di pacchetti, chiamiamoli così, delle videolezioni, dei PowerPoint, poi ricevono anche dispense cartacee che possono studiare con i loro tempi, con i loro modi, decidere quando sostenere l'esame e anche essere supportati da tutor, diciamo sempre per via telematica, che ai loro domani e ai loro dubbi rispondono attraverso la piattaforma tecnologica. Ci sono poi dei momenti di incontro frontale, diciamo tradizionale, all'inizio e alla fine certamente gli esami si svolgono in maniera tradizionale, durante il corso su specifiche esigenze che vengono poste. Credo che sia una forma di formazione, scusate il gioco di parole, che si rifonderà sempre di più e che abbiamo il problema di fare in modo che raggiunga livelli di qualità i più elevati possibili. Ricordiamo che l'anno accademico qui è stato aperto addirittura dall'Alexio Magistralista di Romano Prodi e è un suo vecchio amico Prodi, o sbaglio? Beh, io mi onoro di essere suo amico, abbiamo fatto due anni di lavoro gomito a gomito durante il governo Prodi II e credo che la sua testimonianza ha rappresentato un momento importante per la Pegaso e credo, auspico, se il Presidente mi sente decidere a lui, che nel tempo si fossero attivare ulteriori collaborazioni.